Il flusso migratorio si porta dietro a un flusso economico rilevantissimo, però non è pensabile che questo flusso molto consistente di denaro entri soltanto nelle tasche di chi li accudisce e non abbia un ritorno in termini di servizi aggiunti per la collettività. Quindi ho chiesto prima di tutto di sapere che cosa le strutture di accoglienza fanno per questi richiedenti asilo, cioè come li accolgono, che attività gli propongono, come si svolge la loro giornata. E comunque dal momento che in un'attività economica c'è sempre un ricavo e un costo, dedotto il costo dal ricavo si ottiene il guadagno. Bene, io chiedo che di quel guadagno una percentuale che dovremmo concordare ovviamente sia restituita dalle strutture accettanti in termini di integrazione sociale concordata e soprattutto di sicurezza. Se oggi purtroppo si assiste a un calo della sicurezza perché ci sono dei comportamenti penalmente rilevanti, bene allora che si spenda una parte di quel guadagno per assicurare una maggior sicurezza e dei soggetti ospitati ma soprattutto della città ospitante. Questo ho detto. Con lei è un appello che lei fa e ha fatto, insomma per il momento a mezzo, chiamiamolo, stampa, ma lo farà anche nei tavoli istituzionali? Allora io intanto ho scritto una lettera a tutti i presidenti delle cooperative, delle associazioni ospitanti chiedendo anzitutto una rendicontazione su come avviene la gestione del richiedente asilo e i costi corrispondenti e poi ancora ho chiesto solo a mezzo stampa ma oggettivamente farà parte di un progetto organico la restituzione di una parte del loro guadagno in termini di servizi. Si dice che il Comune non si deve mettere in tasca nulla e non vuole mettere in tasca nulla, chiede a loro di organizzarsi per garantire un sistema di sicurezza e di integrazione sociale e di coesione sociale maggiorata rispetto a quanto non sia adesso. Altrimenti gli episodi che sono avvenuti non sarebbero avvenuti. Ne abbiamo preso atto, malauguratamente ne abbiamo dovuto prendere atto, allora dobbiamo reagire in termini civili, cioè dire il problema esiste e lo dobbiamo gestire in maniera funzionale. I denari ci sono perché quello che si scopre a distanza di tempo è che i denari ci sono e ce ne sono tanti e quindi ci sono i margini per incrementare anche la sicurezza dei cittadini. Al di là del fatto di dire non ne accetto uno in più, quelli che ci sono ci sono e quelli che ci sono vanno in qualche maniera organizzati e vanno controllati. Io credo che gli spazi ci siano. Oltretutto la società lente sul quale abbiamo una più diretta appeal in termini di seguire linee guida è la Fraternità dei Laici, che ha accettato la mia richiesta di non aumentare il carico di richiedenti asilo sul territorio del Comune di Arezzo e comunque in capo a loro è anche accettato di rifare i conti insieme a noi per farci vedere che cosa avanza e di quel che cosa avanza che cosa si può destinare a un progetto per la sicurezza. Questo secondo me è un modo nuovo di affrontare il tema dell'accettazione dei migranti. Allora ci rivediamo quando avrà questi conti? Assolutamente sì.